Ciao Best Movie Comics & Games, ci siamo ingranditi, sarà una corsa piena di ospiti e piena di contenuti. Buon divertimento. Buon divertimento. Questo è... lo mettiamo al basement. Da sempre Best Movie ha quest'anima pop, cioè di rendersi trasversale e quindi questo evento è totalmente giustificato ed è una cosa incredibile.